Serata di gala alla Grand Hotel di Zilla Borrome per la presentazione ufficiale delle nuove maglie della Paffoni sia per quanto riguarda la Serie B con la squadra ovviamente targata Paffoni sia per quanto riguarda la Serie D con Expo Paracchini e FOMA Presidente, una bella responsabilità? Direi di sì, la famiglia cresce, la famiglia cresce bene, cresce con entusiasmo e generando entusiasmo in tutti coloro che in qualche modo si avvicinano o hanno compiti di responsabilità all'interno di questa società quindi io come Presidente non posso che essere orgoglioso e sapere anche il compito che mi aspetta di far crescere tutto questo ambiente, tutta questa società a partire da tutti coloro che appunto sono all'interno dalle nostre tifose, i nostri tifosi, gli sponsor senza i quali non potremmo appunto neanche poter offrire la possibilità di una squadra è una squadra anche che possa dare soddisfazione a livello tecnico, tattico, sportivo e quindi li ringraziamo, lo scopo di questa serata era anche per ringraziarli e per ricordare l'eccellenza che questi sponsor sono sul nostro territorio e l'eccellenza anche che danno la possibilità alla nostra squadra Loredana che concept c'è dietro a queste maglie? Allora quest'anno abbiamo lavorato sull'idea di Mosaico per semplificare un po', perché Mosaico con un duplice significato da una parte c'è comunque la volontà di simboleggiare il cambiamento e il mutamento che ogni anno questa società porta avanti, evolvendosi, espandendosi, realizzando sempre nuovi progetti e dall'altra invece come insieme di elementi che sono tutti quelli che alla fine compongono quella che la fulgore è ovvero più di una società di basket ma una società che si occupa di beneficenza di giovani, di territorio e soprattutto di promozione delle eccellenze del territorio